Ad alta voce, Moni Ovadia legge il nome della rosa di Umberto Eco. Quinto giorno nona, dove si amministra la giustizia e si ha la imbarazzante impressione che tutti abbiano torto. Guglielmo mi disse, il cellario non era solo un peccatore carnale per il bene suo, faceva anche il ruffiano, ma di questo a Bernardo non importa nulla, se non quel tanto che mette in imbarazzo a Bone, mediatore imperiale. Fu interrotto proprio da Bernardo che ora si rivolgeva a lui. Mi interesserebbe poi sapere da voi, frate Guglielmo, di quali carte stavate parlando, Stamoni, con Severino, quando il cellario vi udì e ne trasse a Baglio. Guglielmo sostenne il suo sguardo. Ne trasse a Baglio, appunto. Parlavamo di una copia del trattato sull'idrofobia canina di Ayub al-Ruhawi, libro mirabile di dottrina che voi certo conoscete per fama e che vi sarà stato spesso di molta utilità. L'idrofobia, dice Ayub, si riconosce per venticinque segni evidenti. Bernardo, che apparteneva all'ordine dei domini Canes, non giudicò opportuno affrontare una nuova battaglia. Si trattava dunque di cose strane al caso in questione, disse rapidamente e proseguì l'istruttoria. Torniamo a te, frate Remigio, minorita ben più pericolosa di un cane idrofobo. Se frate Guglielmo in questi giorni avesse posto più attenzione alla bava degli erettici che non a quella dei cani, forse avrebbe scoperto anche lui quale serpe si annidava nell'abazia. Torniamo a queste lettere. Ora sappiamo per certo che furono in tue mani e che ti curasti di nasconderle come fosse una cosa velenosissima e che addirittura hai ucciso. Arrestò con un gesto un tentativo di diniego. E dell'uccisione parleremo dopo. Che hai ucciso, dicevo, perché io non le avessi mai. Allora, riconosci queste carte come cosa tua? Il cellario non rispose, ma il suo silenzio era abbastanza eloquente, per cui Bernardo incalzò. E cosa sono queste carte? Sono due pagine stillate di pugno dalla resiarca Dolcino, pochi giorni prima di essere preso, e che gli affidava a un suo accolito, perché le portasse agli altri suoi setatori ancora sparsi per l'Italia. Potrei reggervi tutto quello che in esse si dice, e come Dolcino, paventando la sua fine imminente, affidi un messaggio di speranza e gli dice ai suoi confratelli «Nel demonio!» Ma non è sulla risibile presunzione di queste profezie che dobbiamo discutere, «Bensì sul fatto che Remigio ne fosse l'attore!» Puoi ancora negare, frate eretico e impenitente, che hai avuto commercio e contubernio con la setta degli pseudo-apostoli?» Il cellario, oramai, non poteva più negare. «Signore», disse, «la mia gioventù è stata popolata di errori funesti quando appresi della predicazione di Dolcino, già sedotto come ero dagli errori dei frati di povera vita, credetti nelle sue parole e mi unì alla sua banda. «Sì, è vero, fui con loro nel Bresciano e nel Bergamasco, fui con loro a Como e in Valsesia, ma non presi parte a nessuna malefatta e quando essi commisero saccheggi e violenze io portavo ancora in me lo spirito di mansuetudine che fu proprio dei figli di Francesco e proprio sul Monte Rebello, dissi a Dolcino, che non mi sentivo più di partecipare alla loro lotta ed egli mi diede il permesso di andare perché disse non voleva dei pavidi con sé e mi chiese solo di portargli queste lettere a Bologna». «A chi?» chiese il Cardinal Bertrando. «Ad alcuni suoi seguaci di cui mi par di ricordare il nome e come lo ricordo ve lo dico, signore». Si affrettò ad assicurare Remigio e pronunziò i nomi di alcuni che il Cardinal Bertrando mostrò di conoscere perché sorrise con aria di soddisfazione facendo un cenno d'intesa a Bernardo. «Molto bene!» disse Bernardo e prese nota di quei nomi e poi chiese a Remigio «E come mai ora ci consegni i tuoi amici? Hai tradito i loro corpi, non hai mai tradito i loro insegnamenti e hai conservato queste lettere come reliquie sperando un giorno di avere il coraggio e la possibilità senza correre rischi di consegnarle per renderti di nuovo bene accetto agli pseudo-apostoli. «No, signore, no!» diceva il cellario coperto di sudore e le mani trebanti. «No, vi giuro che...» «Un giuramento!» disse Bernardo. «Ecco un'altra prova della tua malizia! Vuoi giurare perché tu sai che io so che gli eretici valdesi sono pronti a ogni astuzia e persino alla morte pur di non giurare!» «E se sono spinti dalla paura fingono di giurare e barbottano falsi giuramenti ma io lo so bene che tu non sei della setta dei poveri di Lione volpe maledetta e cerchi di convincermi che non sei ciò che non sei affinché io non dica che tu sei ciò che sei!» «So benissimo che voi pseudo-apostoli accordate dispense a chi giura il falso per non tradire la setta e così ogni giuramento sarà una nuova prova della tua colpevolezza!» «Ma allora cosa devo fare?» urlò il cellario cadendo ginocchioni «Non prosternarti come un peghino! Non devi fare nulla! Oramai io solo so cosa si dovrà fare!» disse Bernardo con un sorriso tremendo «Tu non devi che confessare e sarai danato e condannato se confesserai e sarai danato e condannato se non confesserai perché sarai punito come spergiuro!» «Allora confessa almeno per abbreviare questo dolorosissimo interrogatorio che turba le nostre coscienze e il nostro senso dell'amitezza e della compassione!» «Ma cosa devo confessare?» «Tue ordini di peccati!» «Che sei stato della setta di dolcino e che, corrotto nell'intimo dell'animo tuo dalle pratiche che apprendesti nella setta immonda, sei colpevole dei disordini contro Dio e gli uomini perpetrati in questa abazia per ragioni che ancora mi sfuggono, ma che non dovranno neppur essere del tutto chiarite una volta che si sia luminosamente dimostrato come stiamo facendo che l'eresia di coloro che predicarono e predicano la povertà contro gli insegnamenti del Signor Papa e delle sue bolle non può che portare a opere delituose. Questo dovranno apprendere i fedeli e questo mi basterà. «Confessa!» Fu chiaro a questo punto cosa Bernardo volesse. Per nulla interessato a sapere che avesse ucciso gli altri monaci voleva solo dimostrare che Remigio in qualche modo condivideva le idee propugnate dai teologi dell'imperatore. «Sì, è vero!» gridò. «Sono stato condolcino e ne ho condiviso i delitti, le licenze, forse ero pazzo. Confondevo l'amore del Signor nostro, Cristo Gesù, con il bisogno di libertà e con l'odio per i mescovi. È vero! Ho peccato! Ma sono innocente di quanto è venuto alla pazia, lo giuro!» «Abbiamo per intanto ottenuto qualcosa», disse Bernardo. «Quindi tu ametti di aver predicato l'eresia di Dolcino, della strega Margherita e dei suoi compari. Tu ametti di essere stato con loro mentre vicino a Trivero impiccavano molti fedeli di Cristo tra cui un bambino innocente di dieci anni? Parla!» Il cellario sembrava invasato e illuminato a un tempo. Pareva che ora la diga del silenzio e della simulazione si fosse rotta, che il suo passato tornasse non solo a parole, ma per immagini e che egli riprovasse le emozioni che lo avevano esaltato un tempo. Allora avete bruciato e saccheggiato per impadronirvi dei beni dei buoni cristiani. Abbiamo bruciato e saccheggiato perché avevamo eletto la povertà a legge universale e avevamo il diritto di appropriarci delle ricchezze illegittime degli altri e volevamo colpire al cuore la trama di avidità che si estendeva da parrocchia a parrocchia, ma non abbiamo mai saccheggiato per possedere ne ho ucciso per saccheggiare, uccidevamo per punire, per purificare gli impuri attraverso il sangue. Allora io credevo che eravamo la spada del Signore e bisognava pure uccidere degli innocenti per potervi uccidere tutti al più presto. Noi volevamo uccidere la guerra che voi portavate con la vostra avidità. Perché? Perché ci rimproverate se per stabilire la giustizia e la felicità! Abbiamo dovuto versare un po' di sangue e valeva pur la pena di far rossa tutta l'acqua perché era anche sangue nostro e non ci risparmiavamo perché i tempi erano stretti e bisognava affrettare il corso degli eventi! Tremava tutto, si passava le mani sull'abito come se volesse pulirle dal sangue che evocava. Il ghiottone era diventato puro mi disse Guglielmo. Ma è questa la purezza? Domandai inorridito. Ce ne sarà anche di un'altra sorta disse Guglielmo ma quale che sia mi fa sempre paura. Cosa vi terrorizza di più nella purezza? Chiesi. La fretta rispose Guglielmo. Basta, basta! Diceva ora Bernardo. Ti chiedevamo una confessione e non un appello alla strage. Va bene. Non solo sei stato erettico ma lo sei ancora. Non solo sei stato assassino ma l'ho ancora ucciso. Allora dici come hai ucciso i tuoi fratelli in questa abazia e perché? Il cellario smise di tremare. Si guardò intorno come se uscisse da un sogno. No! Disse. quei delitti della abazia non c'entro. Ho confessato tutto quello che ho fatto. No! Non fatemi confessare quello che non ho fatto. Mi ripugna ricorrere a mezzi che la Chiesa ha sempre criticato quando vengono praticati dal braccio secolare. Ma c'è una legge che domina e dirige anche i miei personali sentimenti. Chiedete alla batte un luogo dove si possano predisporre gli strumenti di tortura ma che non si proceda subito. Per tre giorni resti in una cela in ceppi mani e piedi. Poi gli si mostrino gli strumenti soltanto e al quarto giorno si proceda. Gli arcieri si chinarono a sollevare il cellario ma questi puntò i piedi a terra e fece resistenza accennando di voler parlare. Ottenuta nel licenza parlò ma le parole gli uscivano a fatica dalla bocca e il suo discorso era come il biascicare di un ubriaco e aveva qualcosa di osceno. Solo man mano che parlava ritrovò quella sorta di selvaggia energia che aveva animato la sua confessione poco prima. No signore la tortura no io sono un uomo vile ho tradito allora ho rinnegato per undici anni in questo monastero la mia fede di un tempo riscuotendo le decime da vignaiuoli e da contadini ispezionando le stalle e gli stabbi perché fiorissero ad arricchire l'abate ho collaborato di buon grado all'amministrazione di questa fabbrica dell'anticristo e mi trovavo bene avevo dimenticato i giorni della rivolta mi crogiolavo nei piaceri della gola e in altri ancora io sono un vile ho venduto oggi i miei antichi confratelli di Bologna ho venduto allora Dolcino Dolcino era alto e robusto aveva una gran barba da diavolo e i capelli rossi che gli cadevano in anelli sugli omeri era bello e potente quando ci guidava con un cappello a larghe falde la piuma e la spada cinta sulla veste talare Dolcino faceva paura agli uomini e faceva gridare di piacere le donne ma quando lo torturarono gridava di dolore anche lui come una donna come un vitello perdeva sangue da tutte le ferite mentre lo portavano da un angolo all'altro e continuavano a ferirlo poco per mostrare quanto a lungo potesse vivere un emissario del demonio e lui voleva morire chiedeva che lo finissero ma morì troppo tardi quando giunse sul rogo era solo un ammasso di carne sanguinante e sono anni tanti anni che mi dico quanto fui vile e quanto fui felice di essere vile e tuttavia speravo sempre di poter mostrare a me stesso che non ero così vile oggi tu mi hai dato questa forza signor Bernardo sei stato per me quello che gli imperatori pagani non sono stati per i più vili dei martiri mi hai dato il coraggio di confessare quello in cui ho creduto con l'anima mentre il corpo se ne ritraeva però non impormi troppo coraggio più di quanto ne possa sopportare questa mia carcassa mortale la tortura no tu vuoi un cadavere e per averlo hai bisogno che assuma su di me la colpa di altri cadaveri cadavere sarò presto in ogni caso e quindi ti do quanto chiedi ho ucciso Adelmo da Otranto per odio della sua giovinezza e alla sua bravura nel giocare su mostri simili a me vecchio grasso piccolo ignorante ho ucciso Veranzio da Salvemec perché era troppo sapiente e leggeva libri che io non capivo ho ucciso Berengario da Rundel per odio alla sua biblioteca io che ho fatto teologia bastonando i parroci troppo grassi ho ucciso Severino da Sant'Emerano perché perché collezionava le erbe io che sono stato sul Monte Rebello dove le erbe le mangiavamo senza interrogarci sulle loro virtù in verità potrei uccidere anche gli altri compreso il nostro abate col Papa e con l'Impero egli fa sempre parte dei miei nemici e l'ho sempre odiato anche quando mi davano a mangiare perché gli davano a mangiare ti basta? ah no? vuoi sapere anche come ho ucciso tutta quella gente? ma li ho uccisi vediamo ah 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 evocando le potenze infernali con l'aiuto di mille legioni ho tenuto il mio comando con l'arte che mi ha insegnato Salvatore per uccidere qualcuno non è necessario colpire il diavolo lo fa per voi ah 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 sì se sapete comandare al diavolo guardava gli astanti con un'aria complice ridendo ma era oramai riso di un dissennato anche se come mi fece osservare dopo Guglielmo questo dissennato aveva avuto l'accortezza di trascinare nella propria rovina Salvatore per vendicarsi della sua delazione l'interrogatorio è finito l'imputato reo confesso sarà condotto ad Avignone dove avrà luogo il processo definitivo la salvaguardia scrupolosa della verità ed è la giustizia e solo dopo quel regolare processo sarà bruciato egli Abone non vi appartiene più né appartiene più a me che sono stato solo l'umile strumento della verità il miserabile episodio che ha visto quest'uomo colpevole di tonti e feratti delitti si è concluso ora la bazia viva in pace ma il mondo e qui alzò la voce e si diresse al gruppo dei legati il mondo non ha ancora trovato pace il mondo è dilaniato dall'eresia che trova ricetto persino nelle sale dei palazzi imperiali non dimentichiamolo davanti agli occhi di Dio le farneticazioni di quel miserabile che abbiamo appena consegnato alla giustizia non sono diverse da quelle dei maestri che bonchettano alla mensa del tedesco scomunicato di Baviera la fonte delle nefandezze degli eretici sgorga da molte predicazioni anche onorate ancora impunite è dura passione e umile calvario quello di chi è stato chiamato da Dio come la mia persona pecatrice a individuare il serpe dell'eresia dovunque sia nidi ma compiendo quest'opera santa si impara che non è eretico soltanto chi pratica l'eresia l'ho scoperto diceva e guardava Ubertino tutta la legazione francescana capì bene a cosa Bernardo alludesse oramai l'incontro era fallito nessuno avrebbe più ardito riprendere la discussione del mattino sapendo che ogni parola sarebbe stata ascoltata pensando agli ultimi esciagurati avvenimenti se Bernardo era stato inviato dal Papa per impedire una ricomposizione tra i due gruppi ci era riuscito quinto giorno vespri dove Ubertino si dà alla fuga Bencio incomincia a osservare le leggi e Guglielmo fa alcune riflessioni sui vari tipi di lossuria incontrati quel giorno mentre mentre l'assemblea sfollava lentamente dalla sala capitolare Michele si avvicinò a Guglielmo ed entrambi furono raggiunti da Ubertino Bernardo ci ha sconfitto disse Guglielmo non chiedetemi se quell'imbecille di Dolcignano è davvero colpevole di tutti quei delitti per quel che ne capisco no senz'altro il fatto è che siamo al punto di prima Giovanni ti vuole da solo ad Avignone Michele si deduce mi pare che tu non debba andare Michele scosse la testa invece andrò non voglio lo scisma voglio che l'ordine francescano sia accettato nei suoi ideali di povertà dal Papa e il Papa dovrà capire che solo se l'ordine assume su di sé l'ideale della povertà si potranno riassorbire le sue diramazioni ereticali andrò ad Avignone e se sarà necessario farò atto di sottomissione a Giovanni transigerò su tutto meno che sul principio di povertà intervenne Ubertino lo sai che rischi la vita e così sia rispose Michele meglio che rischiare l'anima rischiò seriamente la vita e se Giovanni era nel giusto ciò che ancora non credo perse anche l'anima come oramai tutti sanno Michele andò dal Papa la settimana che seguì i fatti che ora narro gli tenne testa per quattro mesi sino a che nell'aprile dell'anno seguente Giovanni convocò un concistoro in cui lo trattò da folle temerario testardo tiranno fautore d'eresia serpe nutrito dalla chiesa nel suo stesso seno e c'è da pensare che ormai secondo il modo in cui lui vedeva le cose Giovanni avesse ragione perché in quei quattro mesi Michele era divenuto amico dell'amico del mio maestro l'altro Guglielmo quello di Ocam e ne aveva condiviso le idee non molto diverse seppure ancora più estreme di quelle che il mio maestro condivideva con Marsilio e aveva espresso quella mattina la vita di questi dissidenti divenne precaria ad Avignone e alla fine di maggio Michele Guglielmo di Ocam Buonagrazia da Bergamo Francesco D'Ascoli e Henri de Talheim si diedero alla fuga inseguiti dagli uomini del Papa Anizza Tolone Marsiglia e Egmort dove furono raggiunti dal cardinale Pierre de Arable che cercò in vano di indurli a tornare senza vincere le loro resistenze il loro odio verso il pontefice la loro paura in giugno arrivarono a Pisa accolti in trionfo dagli imperiali e nei mesi seguenti Michele avrebbe denunciato pubblicamente Giovanni troppo tardi ormai le fortune dell'imperatore stavano scemando da Avignone Giovanni tramava per dare ai minoriti un nuovo superiore generale ottenendo infine la vittoria meglio avrebbe fatto Michele quel giorno a non decidere di andare dal Papa avrebbe potuto curare la resistenza dei minoriti da vicino senza perdere tanti mesi alla mercè del suo nemico indebolendo la sua posizione ma forse così aveva predisposto l'onnipotenza divina ne so ora più chi tra tutti coloro fosse nel giusto e dopo tanti anni anche il fuoco delle passioni si spegne e con esso quello che si credeva essere la luce della verità Michele aveva deciso e non ci fu modo di convincerlo ad esistere salvo che si poneva ora un altro problema e Guglielmo lo enunciò senza ambagi Ubertino stesso non era più al sicuro le frasi che gli aveva rivolto Bernardo l'odio che per lui oramai nutriva il Papa il fatto che mentre Michele rappresentava ancora un potere con cui trattare Ubertino era rimasto invece a far parte per se stesso Giovanni vuole Michele a corte e Ubertino all'inferno se conosco bene Bernardo entro domani e complice la nebbia Ubertino sarà ucciso e se qualcuno si chiederà da chi la bazzia potrà ben sopportare un altro delitto e si dirà che erano diavoli evocati da Remigio coi suoi gatti neri o qualche dolcignano superstite che ancora si aggira tra queste mura Ubertino era preoccupato e allora allora disse Guglielmo vai a parlare con l'abate chiedigli una cavalcatura delle provviste una lettera per qualche abbazia lontana oltre le Alpi e approfitta della nebbia e del buio per partire subito e dunque addio aprì le braccia commosso Ubertino lo abbracciò stretto addio Guglielmo sei un inglese pazzo e arrogante ma hai un gran cuore ci rivedremo ci rivedremo lo rassicurò Guglielmo Dio lo vorrà poi si allontanò con Michele per cercare dell'abate e ora domandai a Guglielmo e ora torniamo ai nostri delitti maestro dissi oggi sono successe cose molto gravi per la cristianità ed è fallita la vostra missione eppure sembrate più interessato alla soluzione di questo mistero che non allo scontro tra il Papa e l'imperatore i fogli e i bambini dicono sempre la verità Azzo sarà perché come consigliere imperiale il mio amico Marsilio è più bravo di me ma come inquisitore sono più bravo io persino più bravo di Bernardo Gui Dio mi perdoni perché a Bernardo non interessa scoprire i colpevoli bensì bruciare gli imputati e io invece trovo il diletto più gaudioso nel dipanare una bella intricata batassa e sarà ancora perché in un momento in cui come filosofo dubito che il mondo abbia un ordine mi consola scoprire se non un ordine almeno una serie di connessioni in piccole porzioni degli affari del mondo infine c'è probabilmente un'altra ragione ed è che in questa storia forse sono in gioco cose più grandi e importanti che non la battaglia tra Giovanni e Ludovico ma è una storia di furti e vendette tra monaci di poca virtù esclamai dubbioso intorno a un libro proibito intorno a un libro proibito ormai i monaci stavano avviandosi a cena il pasto era già a metà quando si sedette accanto a noi Michele da Cesena avvertendoci che Ubertino era partito Guglielmo trasse un sospiro di sollievo alla fine della cena evitammo l'abate che si stava intrattenendo con Bernardo e individuamo Bencio che ci salutò con un mezzo sorriso tentando di arrivare alla porta Guglielmo lo raggiunse e lo costrinse a seguirci in un angolo della cucina Bencio gli chiese Guglielmo dov'è il libro qual libro Bencio nessuno di noi due è uno sciocco parlo del libro che cercavamo oggi da Severino e che io non ho riconosciuto e che tu hai riconosciuto benissimo e sei andato a riprendere cosa vi fa pensare che io lo abbia preso lo penso e lo pensi anche tu dov'è non posso dirlo Bencio se non me lo dici ne parlerò all'abate non posso dirlo per ordine dell'abate disse Bencio con aria virtuosa oggi dopo che ci siamo visti è accaduto qualcosa che dovete sapere dopo la morte di Berengario mancavo un aiuto bibliotecario così oggi pomeriggio Molachia mi ha proposto di prendere il suo posto proprio mezz'ora fa la bote ha consentito e totumoni mattina spero sono iniziato ai segreti della biblioteca è vero ho preso il libro stamane e l'avevo nascosto nel pagliericcio della mia cella senza neppure guardarlo perché sapevo che Molachia mi sorvegliava a un certo punto Molachia mi ha fatto la proposta che vi ho detto e allora ho fatto quel che deve fare un aiuto bibliotecario vi ho consegnato il libro non potei trattenermi dall'intervenire con violenza ma Bencio ieri e l'altro ieri tu voi dicevate che eravate arso dalla curiosità di conoscere che non volevate più che la biblioteca celasse dei misteri che uno scolaro deve sapere Bencio taceva arrossendo ma Guglielmo mi arrestò Azzo da qualche ora Bencio è passato dall'altra parte ora lui è il custode di quei segreti che voleva conoscere e mentre li custodisce avrà tutto il tempo che vorrà per conoscerli ma agli altri domandai Bencio parlava a nome di tutti i sapienti prima disse Guglielmo e mi trascinò via lasciando Bencio in preda alla confusione Bencio mi disse poi Guglielmo è vittima di una grande lussuria che non è quella di Berengario né quella del Cellario come molti studiosi ha la lussuria del sapere del sapere per se stesso escluso da una parte di questo sapere voleva impadronirsene ora se ne è impadronito è lussuria di libri quella di Bencio come tutte le lussurie come quella di Onan che spargeva il proprio seme per terra è lussuria sterile e non ha nulla a che vedere con l'amore neppure quello carnale lo so mormorai mio malgrado Guglielmo fece finta di non avere udito ma come continuando il suo discorso disse l'amore vero vuole il bene dell'amato non sarà che Bencio vuole il bene dei suoi libri che oramai sono anche suoi e pensa che il loro bene sia restare lontano da mani rapaci domandai il bene di un libro sta nell'essere letto un libro è fatto di segni che parlano di altri segni i quali a loro volta parlano delle cose senza un occhio che lo legga un libro reca segni che non producono concetti e quindi è muto questa biblioteca è nata forse per salvare i libri che contiene ma ora vive per seppellirli per questo è divenuta fomite di impietà il cellario ha detto di aver tradito così ha fatto bencio ha tradito ah che brutta giornata mio buonazzo piena di sangue e rovina per quest'oggi ne ho abbastanza andiamo anche noi a compieta e poi a dormire uscendo dalla cucina incontramo Aymaro ci domandò se era vero quello che si sussurrava che Malachia avesse proposto bencio come proprio aiuto non potemmo che confermare questo Malachia ha fatto molte belle cose quest'oggi ci disse Aymaro col suo solito sogginio di disprezzo e di indulgenza se ci fosse gestizia il diavolo verrebbe a prenderselo questa notte Moni Ovadia a letto Il nome della rosa di Umberto Eco a cura di Anna Antonelli Fabiana Carobolante Lorenzo Pavolini Chiara Valerio regia di Chiara D'Ambros per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it